Siamo nella palestra di Grazia Casolo, la terza giornata del campionato a squadra, parliamo con lei di Gianpietro, giocatore del Ternistavolo Rogno, squadra A. Sentiamo da lui le sue impressioni sul campionato e come sta andando la serata. Appena iniziato il campionato siamo la terza domenica, il terzo giovedì che facciamo, la terza prova. Sta andando bene, stiamo divertendoci, stiamo giocando. Troviamo sempre i vecchi amici di 30 anni fa, sta sempre a noi che giochiamo. Qualche ragazzino nuovo che prova a impensierirci, è duro giocare contro di loro perché fisicamente sono molto più forti di noi. Il Rogno è impegnato anche nell'allestimento della prova regionale di Ternistavolo che si svolgerà a Rogno il 24 di gennaio. Chiediamo a Pierino se è corrente, come vanno i preparativi e tutto quanto. Sicuramente il centro giovanile di Rogno, la sezione del Ternistavolo, darà tutto per organizzare questa gara. Mario al nostro comando sicuramente ci indirizzerà e non faremo brutta figura, sicuramente saremo all'altezza della situazione.